Oh, bisogno! Ursula, per mille meduse, cosa si fa con il tuo chiamato? Madonna degli abissi con le tue murene! Tranquillo, tritone, credo proprio che il mio aiuto qui sia indispensabile. I miei sortilesi più malvagi sono quelli che riescono nel migliore dei modi. E poi, un capitano! Un capitano! Ho sempre sognato un capitano! Magari, indivisci, preparo la mia pozione! E, vediamo cosa riesci a fare! La missa al mare! La baralla e il pescicato! Fatemi impersonare i disideri a verare! Eh sì, quella strega dei mari ne sapeva una più del diavolo ed era riuscita veramente ad entrare nella testa di un cino. Si vede che quel cocktail lì ha funzionato! Come mi sento strano! Come mi sento strano! Per festeggiare dovrei un tesoro trovare! Ehi, nessuno conoscente, Ursula, ce l'abbiamo fatta! E siamo noi! E siamo noi! E siamo noi! Ursula! Ursula! Sì, sì! 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 Sono fatto! E ci sono un'idea particolare! Un tesoro! Un tesoro? Ma quale tesoro? Un tesoro! Ma ce l'abbiamo un tesoro! Ce l'abbiamo! Abbiamo il tesoro! Seguitemi! Fermi tutti, fermi tutti! È sparito, è sparito! Ma è sparito che cosa? Calma, calma Zio! È sparito il tesoro! L'avevo accetto qui nascosto sotto la ponte piena di volumi così l'è sparito! Adesso, come c'è? Beh, qui ci vorrebbe un detective! Detective? Detective? Perché c'è un detective? Io sono un detective, io sono il topo dei detectives! Questo chi è? Ma io la conosco, lei... Lei chi è? Stilton, un erorico Stilton! Stilton! D'aliena di domanda, di rivolento del roditore! Ma la mia vera specialità è il mister... E questo è il mio armamentale! Presto, 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 il tesoro ci serve per domani e lei ci deve assolutamente aiutare! Come potremmo fare per stevitarci? Ma con un bel pezzo di frattino... Cerco, cerco, cerco... E troverò il tesoro! Chi si è bevuto? La mia polpile di pesce gatto! Io no, io no, io no! Squid per mille mozzarella è un gatto! Ferma, ferma, ferma! Fermati! Qui non c'è nessuno... Ma c'è tutta la parola! Certo che questa storia del tesoro è proprio una gatta da pelare! Grazie! Grazie!